Due persone sono rimaste ferite nell'esplosione dell'abitazione nella quale vivevano al primo piano di una palazzina nel centro di Mirto Crozia. La deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas e gli occupanti della casa, due uomini braccianti agricoli di nazionalità afghana, nell'apprestarsi a preparare la colazione nel vano cucina, hanno innescato l'esplosione in seguito alla perdita di gas, rimanendo così leggermente uscionati e riportando ferite da escoriazione. Sono stati prontamente soccorsi e trasferiti nell'ospedale di Rossano, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, anche i carabinieri del reparto territoriale ed il personale del 118.